Le notti romane estive Le notti romane estive rischiano di far venire i brividi al gentil sesso, specialmente quando, in un evento mondano, a farla da padrone sono gli ometti belli da far paura. Al Momò c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Chi voleva poteva indirizzare lo sguardo sull'ex GFino Alessandro Tersigni, o un insolito e barbuto Matteo Branciamore, o un Nicola Canonico versione Marine, o un sexy Francesco Arca. Meno fascinoso ma professionalmente ineccepibile c'era pure Alessandro Haber. Per non far mancare una stropicciatina agli occhi pure al sesso forte sono arrivate Giada De Blanc con le sue gambe chilometriche e Nadia Bengala. Un party davvero con i fiocchi.